Vi siete rinfrescato le idee, Capitano? No! Devo rimettere le mani su quel medaglione! Ma come, Capitano? Quei mostriciattoli roventi sono più caldi di un forno acceso in piena estate! Già, puoi dirlo forte! E questo mi suggerisce un'idea su come sopportare il calore! No! Non indietreggiamo oltre, fratelli! Uniamo le nostre forze! Oh, oh! Qui si mette male! E adesso aumentiamo la temperatura! Caldo, caldo, caldo! Si sono fusi in un mega mostro di lava! Scappiamo, pirati! Ora servirà molto più che qualche secchiata d'acqua! Servirebbe addirittura un intero oceano d'acqua! Beh, io conosco qualcuno che potrebbe aiutarci! Pare che quei mostri di lava siano passati da qui, Capitano! Ottimo! Stavolta prenderò quel medaglione senza esitazioni! Col mio abito super isolato e il mio uncino guanto da forno! Nessun tipo di calore! Oh, fermi! Vale! State a vedere! Bucky ha proprio ciò che ci serve per annientare quei mostri! Prepariamoci a fare il pieno! Lava, corri! Lava, scorri! L'intera isola per corri! Oh, no! Ha creato un foro! Sta fuori uscendo la lava! Forza, Bucky! Perfetto! Yo-ho! Sparate con i cannoni ad acqua! Bucky, è il momento della mega secchiata! Stabilizzati, Bucky! Stabilizzati! Scorri, Lava, scorri! Evviva! Ondata d'acqua in arrivo! Per tutti i bruscolini! Ciao, ciao, tesorino! Si è trasformato in pietra! Adesso è solo una grande e orribile statua! Io-ho! Il problema della lava è risolto! E vai! Doppio urraccio urma! Capitan Jake e i pirati dell'isola che non c'è! A Disney Junior!